Pantafa, allora Emanuele Scaringi sei il regista di questo folk horror che è un prodotto un po' atipico per il cinema italiano, quindi come nasce innanzitutto l'idea? Siamo partiti dalla storia, cioè da questi disturbi del sonno che sono le paralisi ipnagogiche e abbiamo scoperto che la maggior parte di chi ne soffre crede che dipenda da uno stato allucinatorio dove c'è questa entità che si siede sul petto e ti ruba il respiro, nella fattispecie da questa leggenda popolare che è la Pantafa e si sa pochissimo di questa strega e abbiamo cominciato a fare ricerche perché lì abbiamo appunto, visto che abbiamo un enorme bacino di leggende, di storie che vengono pochissimo sfruttate siamo di solito, le accogliamo dall'estero ma non riusciamo a sfruttare e a valorizzare i nostri racconti popolari per cui abbiamo cercato di farlo con questo horror Cascio, invece tu sei la protagonista del film e come ti approcci ai personaggi che interpreti e come anche hai caratterizzato questa Marta? Mi è capitato di interpretare in vari modi diversi i personaggi simili forse il personaggio che si avvicina di più risale a uno dei miei primi film che era quello di Peter Del Monte, Nelle tue mani dove il mio personaggio era una madre single che era schiacciata dal senso della responsabilità, dal peso di essere madre e viveva questa esperienza con la paura, il senso di inadeguatezza però qua l'elemento che è stato decisamente diverso e decisivo era proprio il genere intorno al quale questa storia si svolge Certo, mi piaceva il fatto che questa è soprattutto una storia che ha delle basi vere perché si basa sul fenomeno delle crisi ipnagogiche e quindi le paure sono vere sono una specie di attacchi di panico che chiamiamoli così però di fatto le crisi ipnagogiche sono sono le crisi in quale il corpo è svegli il corpo, scusate, la mente sveglia il corpo dorme ancora quindi c'è la sensazione di non avere di non essere padrone di se stessi in più c'è una chiara sensazione dello schiacciamento, del torace, della mancanza del respiro in tanti casi si aggiungono anche dei fenomeni di sonori e uditivi quindi è una cosa vera di quale soffre 8% della popolazione mondiale e questa era la base poi dare il volto come è stato già fatto in tutte le culture in tutte le parti del mondo ha queste paure dove nel nostro caso è la pantafa una figura abruzzese in altri paesi ha altri nomi ha altri volti sempre una figura femminile ha delle somiglianze delle sembianze questo poteva bastare per farne magari un thriller psicologico horror è un'altra cosa è uno step in più dove la realizzazione e la riuscita dipende da talmente tanti elementi forse ancora più elementi di un film drammatico una commedia un thriller veramente ci sono troppi elementi per far funzionare tutto perché questa linea dove si passa nel genere horror e tutti gli altri generi è molto netta ma il tuo rapporto con l'horror invece? io non non amo molto genere nel senso non ho grande conoscenza del genere horror quindi mi è difficile esprimermi su che cos'è e non vado neanche ma non amo perché ho paura ho paura non guardo la mia conoscenza si è fermata con un'esperienza al cinema in Polonia quando ero quando ero piccola di The Blair Witch Project e lì mi sono detta mai più poi alcune cose no sono sempre scappata perché penso ai thriller psicologici come The Others The Village ma sono dei thriller psicologici non sono di fatto dei horror no? anche se fanno paura ecco raccontare i rapporti umani e le paure vere tramite un genere come horror ci vuole tantissimo coraggio ci vuole coraggio per poterlo raccontare in maniera veritiera in modo che non sfociano in qualcosa di grotesco divertente no? di qualcosa su quale tu ti diverti e basta ma qua serviva amplificare la sensazione della paura dall'inizio alla fine più che il momento esce il mostro dall'armadio no? cioè è il momento del buio è il momento della luce che si spegne era un po' come una una danza no? un fine equilibrio equilibrio tra quello che è realistico e quello che non è realistico Emanuele ma invece ad un livello meno superficiale che cosa rappresenta poi nel profondo la pantafa anche in questo film la pantafa in qualche modo è un mostro è il nostro mostro forse rappresenta l'ineguatezza la voglia di ribellione la cosa vogliono gli altri da noi in questo film rappresenta il rapporto tra una madre e una figlia su su quanto siamo esigenti verso l'altro su cosa ci fa paura e in qualche modo è una figura che si fa paura ma ci protegge anche e a suo modo è un personaggio di ribelle perfetto allora pantafa e al cinema grazie e complimenti di ribelle grazie 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 a tutti